Musica Buongiorno, bentrovati, lunedì 4 novembre 2019, primo appuntamento della settimana, l'appuntamento del lunedì con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani oggi in edicola, partiamo con le prime pagine del centro, vediamo l'edizione di Pescara per vedere il titolo di apertura che riguarda le età, se vedete scade la Tari, la caccia agli evasori da parte del comune, si avvicina infatti il termine, sanzioni del 30% per chi non ha pagato subito, vediamo le altre notizie, spoltore, cronaca, banditi all'Eurobet, rapinatori con il coltello, nell'agenzia scommesse a Montesilvano, buche strisce invisibili, emergenza, strade sicure, poi andiamo in basso, progetto per l'ex COFA, siamo a Pescara, si punta ad un accordo oggi di nuovo in consiglio comunale, parliamo anche di sport, vedete la foto a centro pagina, gol record Zauri, si coccola il bomber Galano, protagonista anche nella vittoria di sabato scorso con il Pisa, l'attaccante è Bianca Azzurra, ha raggiunto quota 6 nella classifica marcatori, vediamo anche quello che è accaduto in Serie A con i razzisti, Balotelli calcia la palla sui tifosi, Milan è crisi dopo la sconfitta con la Lazio, vediamo anche il calcio regionale di eccellenza, penne KO in casa tra le polemiche, il delfino Flacco Porto blocca il Lanciano, vediamo poi in basso altri due titoli, conti delle famiglie, riscaldamento come risparmiare, e poi Abruzzo, reddito di cittadinanza decaduti 821 beneficiari, andiamo a vedere la prima pagina di Chieti, Lanciano, Vasto, del quotidiano Il Centro, troppe buche il corso e una trappola, Chieti il Comune paga i danni per le cadute in centro, ma non ha giusta la strada rotta, e poi Vasto, ritrovati i candelieri rubati nelle chiese Ortona, piano regolatore, l'opposizione dice è un freno per la città, vediamo anche quello che accade a Lanciano, la mancanza di personale a Palazzo di Giustizia, il Tribunale è al collasso, vediamo anche invece il calcio, in particolare la Serie D, Vastese e Chieti si fanno rimontare e pareggiano, Vastese bloccata sull'1-1 a Pineto, Chieti in vantaggio per 2-0 a Civitanova contro la San Giustese, subisce, per meglio dire, il pareggio dei marchigiani nel finale, gara che si chiude sul 2-2, vediamo anche il basket, colpo esterno del Chieti, l'ESA riparte da Montegranaro con una vittoria importante dopo un avvio di stagione piuttosto turbolento, vediamo la prima pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, la cronaca in primo piano, Schianto muore mentre va dalla figlia, frontare a Montorio Alvomano, la vittima è una 87enne del posto, ferito il nipote alla guida dell'auto, e poi vedete il calcio di Serie C, Teramo 1-0 al Bisceglie, poker di vittoria, 4 successi consecutivi per i Biancorossi, la vittoria di ieri al Bonolis, firmata da Ilari, Teramo ancora, terremotati la beffa delle maxibollette, poi l'omicidio di Nereto, Micaela, esami tecnici sui telefoni cellulari. Vediamo anche Bisenti, questa notizia che arriva da Bisenti, sospese le ricerche dell'anziano sparito. Basket di Serie A2, il peggior roseto viene asfaltato dal Mantua, che passa al Palamaggetti per 82 a 62. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Avezzano sul Mona, sempre del quotidiano Il Centro, troppi furti, petizione al prefetto, L'Aquila allarme nei quartieri, un cittadino denuncia picchiato in casa da Romeni. Avezzano che ha poi contestato, rivoluzione Paris a dicembre, ci sarà davvero una vera e propria rivoluzione nell'Avezzano, lo ha detto, lo ha annunciato il presidente Biancoverde, ieri Avezzano sconfitto in casa dal Matelica. Vediamo altre notizie, non di sport, cronache Avezzano verso le elezioni, gruppi civici a Natale, il nome del candidato e poi a Carsoli, Gran Folla, i funerali e palloncini bianchi per l'addio a Federica. Vediamo poi in basso, sul Mona, scuole sicure, asilo nido risistemato, via al rientro dei bimbi. E poi vediamo il calcio, in questo caso torniamo al calcio con l'Aquila che ribalta il Celano, con l'ex Zanon e con Maisto, vittoria per 3 a 2 dei Rosso Blu. Vediamo anche la prima pagina del centro, questa è la pagina nazionale, scusate, del messaggero. Manovra mancano 2 miliardi, poi vedremo ovviamente la prima pagina d'Abruzzo del quotidiano romano, nel suo inserto. Allora andiamo a vedere invece le prime pagine dei quotidiani nazionali, siamo al Corriere della Sera, in tesa difficile sulla manovra, la sfida in Aula e Di Maio rilanciano ai negozi sempre aperti, mezza Italia sott'acqua, lagamenti anche in Toscana e Campania, grossi problemi in alcune regioni. Vedete questa foto davvero emblematica con una strada che è stata trasformata in un vero e proprio fiume. Vedete poi il titolo in basso, ma al tempo, nuova emergenza in Liguria. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, la nuova Europa dovrà fare patti con i sovranisti, non abbiamo scelta, a seconda dei casi chiederemo i loro voti. Parla Vestager, vicepresidente della prossima commussione dell'Unione Europea, e poi Di Maio in Cina, ma la via della seta è ferma. Vediamo poi in basso la Formula 1, Hamilton campione ad un passo da Schumacher, il pilota della Mercedes vince il suo sesto mondiale. Vediamo anche il fatto quotidiano, tutte le balle sulla Plastic Tax, aziende in ginocchio, ma esiste in mezz'Europa e non fa danni. Dopo Renzi, anche Bonaccini contro la microtassa ambientalista. I finti green, titola il fatto quotidiano. E poi le storie, voto la bandiera rotta, trionferà anche questa volta, si parla delle elezioni in avvicinamento in Emilia Romagna. E poi i racconti shock dei genitori, i nostri bimbi nel lager, gestito da suore e preti. Vediamo il giornale, governo di plastiche, l'Ite continua, il PD giù nei sondaggi, una frena sulla tassa, ma il Movimento 5 Stelle insiste. Caccia ha oltre un miliardo e mezzo rischio patrimoniale. E poi vedete questo titolo di spalla, dialogare con Salvini, la Chiesa si spacca. Critiche all'apertura del Cardinal Ruini. Vediamo il mattino di Napoli, Fondi e Comuni Sud, scippato, questo è il titolo di apertura. Federalismo ricostruiti i dati secretati dal 2015. Vediamo poi in basso due titoli tra Sport e Cronaca. Il primo riguarda lo sport, il calcio giocato, per meglio dire. Se anche il VAR non salva il calcio, Cajona e Delight la regola dei due pesi. E poi ululati razzisti e Ballotelli lancia la palla in tribuna. Verona, il calciatore minaccia di uscire. Il ministro Spadafora, ora azioni concrete. Vediamo il messaggero nazionale. Manovra, mancano due miliardi e poi maltempo, essondazioni e pesanti danni. Neve in Piemonte, trombe d'aria, frane allagamenti, Italia sott'acqua, paralisi nella capitale. Vediamo libero, assistenzialismo clientelare. Questo è il titolo di apertura. Nel paese di Maio in 12 mila incassano il reddito grillino. E poi i giovani non lavorano le islamiche neppure, gli immigrati ci costano molto più di quel poco, che sanno produrre, scrive il quotidiano libero. E poi con speranza alla sanità, la speranza, e non ammalarsi il ministro per caso, più rosso, dei giallorossi, scrive ancora il quotidiano libero. Secolo.it, per la patria sempre. 4 novembre, oggi festa delle forze armate. Fratelli d'Italia in Alto Adige, per una nazione da difendere ancora oggi. Vediamo anche la stampa di Torino. Pignatone, la prova c'è. Mafia e corruzione condizionano Roma. L'ex procuratore interviene dopo la sentenza della Cassazione, non servono omicidi e bombe, basta il vincolo associativo a delinquere. Anche sul quotidiano torinese, grande spazio all'ondata di maltempo nel nostro paese, soprattutto nel centro-nord, sulla fascia tirrenica, allagamenti, frane, trombe d'aria, scatta l'allarme in Liguria. E poi Balotelli, una pallonata ai tifosi razzisti, dopo Roma sospesa per pochi minuti, anche la partita, Verona-Brescia. Il tempo, antifascisti per gioco, la psicosi dell'uomo nero cade nel ridicolo, scrive il tempo. E poi, che fenomeno Gualtieri, taglia pure le tasse, che non ci sono il ministro. Vedete nella foto, e poi in basso un acquazzone, e Roma va in tilt. Vediamo il quotidiano, la verità rissa nel governo, sulla manovra, questo è il titolo di apertura, Renzi attacca la Plastic Tax, Di Maio la difende, scontro sulle auto aziendali, Zincaretti si infuria. Siamo tutti contro tutti, siamo al tutti, contro tutti, per meglio dire, inchiesta sul Movimento 5 Stelle. Noi, Popolo 5 Stelle, ora temiamo di sparire. Questa è l'inchiesta del quotidiano, la verità, e poi banche, alla fine guadagnano sempre l'oro, la spesa per un conto sale del 10%, rincarano canoni online, e surroghe mutui, e con i bancomat puntini, puntini. Vediamo, lasciamo dunque l'edicola nazionale, anzi no, abbiamo il secolo XIX, il quotidiano di Genova, che ovviamente dedica il titolo di apertura all'ondata di maltempo, che sta investendo in particolare la Liguria, il fango travolge mezza Liguria, vedete il titolo, decine di sfollati fra Chiavari e la Spezia, 40 famiglie isolate a Sanremo, oggi allarme mareggiata, davvero questa foto, che abbiamo visto anche nella prima di altri quotidiani, che mostra davvero una situazione di grande emergenza in Liguria. Possiamo a questo punto lasciare davvero l'edicola nazionale, tornare ai giornali abruzzesi, ripartire dal centro, da pagina 2, si parla dei conti delle famiglie abruzzesi, si parla di energie e di come risparmiare spese per il riscaldamento, soprattutto il decalogo del risparmio, a elaborare la guida elenea per alleggerire le bollette e salviare l'ambiente. E poi reddito dei caduti, 821 beneficiari in Abruzzo alla fine di settembre, percepivano il sostegno in 21.091. vediamo ora il prossimo titolo, ci porta dalla parte bassa di pagina 2 del centro, pensionati all'estero, parte la verifica, dovranno attestare l'esistenza in vita, pena la sospensione dell'assegno. Vediamo pagina 3, la politica regionale, perché oggi arriva nella nostra regione il ministro Bellanova, che lancia Italia Viva in Abruzzo, il ministro dell'Agricoltura oggi a Chieti, assieme al deputato D'Alessandro, per Natale saremo in tutti i comuni. E poi vedete nella foto alcuni dei politici abruzzesi che hanno già aderito a Italia Viva, come Tommaso Ginobble, Alessandro Marsoli e Danilo Spadolini. Andiamo avanti, centro pagina, e il PD avvia la discussione sul nuovo statuto del partito. domani Martina all'Aquila, mercoledì incontro PD a Pescara. Letto Manoppello, intesa città delle grotte, speleologi, firmata la Convenzione per progetti comuni, traenti e associazione. Siamo alle cronache dalle province, partiamo da Pescara, la tassa su rifiuti, la scadenza, parliamo della Tari in particolare, ultima chiamata per i cittadini pescaresi, il 30 scade la quarta rata, si avvicina il termine per i contribuenti che devono versare di nuovo l'imposta, sono pronti a partire i controlli, sanzioni del 30% per chi non ha pagato subito. E vedete poi di spalla l'altro titolo, sotto controllo le banche dati per stanare gli evasori. I progetti per la città, siamo sempre a Pescara, Università nell'ex Cofa, il caso torna in Consiglio Comunale, oggi riparte il dibattito sulla proposta, il centro-destra è pronto a modificarla, le associazioni di commercianti e artigiani chiedono opere per attività turistiche. In basso parliamo di nuova viabilità nella zona dei colli, soprattutto per il rifacimento delle strade, oggi partono i lavori in via Colle di Mezzo, domani in via Rapietra, la circolazione sarà a senso unico. Parliamo anche di cronaca, ci spostiamo a Spoltore, rapinatori armati di coltello assaltano l'agenzia di scommesse, paura all'Eurobet di Via L'Europa a Santa Teresa, ieri sera, poco dopo le 19, indagano i carabinieri, tre banditi armati e con il volto coperto hanno minacciato gli addetti per poi fuggire con il bottino. Due giorni fa c'era stata la rapina al portavalori, sempre a Spoltore, la chiave, vedete il titolo, è nelle impronte, i banditi hanno agito, senza guanti. Torniamo a Pescara, è morta d'innocenzo, storica professoressa, aveva 102 anni, oggi funerari negli anni 30, tra le prime studentesse del liceo classico. Vediamo la prossima pagina che ci porta da Pescara a Montesilvano, anche in questo caso parliamo di viabilità, viabilità pericolosa, buche e strisce invisibili, così si rischia sulle strade, in via Vestina e Corso Umberto, segnaletica scarsa e asfalto rotto per i lavori della fibra. E intanto oggi a Montesilvano, a terra in spiaggia, un tricolore di 500 metri, ci sarà una manifestazione anche con i paracadutisti per la ricorrenza, la festa delle forze armate del 4 novembre. Vediamo poi in basso, siamo sempre in provincia di Pescara, ma a Pianella, Pianella cartiera, un colabrodo, provinciale franata e semaforo da 20 mesi, denuncia del consigliere Filippone. E poi sulla circonvallazione di Pescara, gallerie e le piane chiusura notturna e di giorno scattano i controlli. Siamo a Francavilla al mare, dove si pensa al dopo Luciani, via alle grandi manovre nella politica comunale francavillese. L'assessore Albertini cede il testimone di coordinatore di Insieme. Siamo Francavilla per traghettare il movimento fino alle elezioni del 2021. 2021 la guida passa a Di Giuseppe. Parliamo anche di occupazione Oma, oggi in piazza, la rabbia degli operai, le fabbriche di Castiglione e Tocco da Casauria della Oma, con diversi lavoratori che scenderanno in strada. Vediamo anche le prossime pagine del Quotidiano Il Centro. La prima riguarda la cronaca di Chieti e di Chieti Provincia. Siamo in particolare a Vasto. Ritrovati infatti i candelieri rubati, caccia ai ladri delle chiese, i contenitori di monete erano stati svuotati e gettati vicino ad un torrente. Un altro raccoglitore vuoto è stato recuperato vicino al parco di Aqualand. Siamo sempre a Vasto, morì a Rigopiano, giustizia per Jessica, non voglio vendetta, parla il padre della ragazza scomparsa nella tragedia dell'hotel Rigopiano. Andiamo avanti con la seconda pagina di Chieti e Provincia. Siamo a Lanciano, il grido di allarme per il Palazzo di Giustizia manca il personale tribunale al collasso. Si rischia la paralisi, l'allarme di Progetto Lanciano. si scende infatti da 30 a 16 dipendenti. Il gruppo chiede il reintegro dei pensionamenti in arrivo. Vediamo poi in basso Lanciano, i pendolari troppi di servizi, chiedono maggiori servizi pendolari della tratta Lanciano. L'Aquila scoppia la protesta per i bus scomodi, fatiscenti e spesso rotti. Siamo a Chieti, buche e crepe sul corso, il corso che è una trappola. Il Comune paga 15 mila euro di danni per le cadute in centro, ma non ha giusta la strada dissestata. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre del quotidiano Il Centro. Emergenza sicurezza, nel capoluogo troppi furti. Scatta la petizione al Prefetto, raccolta di firme al Torrione e a San Francesco, chiesti più controlli, anche contro gli atti di vandalismo, sulle automobili. Ladri romeni mi hanno picchiato e ferito la denuncia di un cittadino su Facebook, indagini in corso, sull'episodio denunciato ad Aragno. Vediamo poi in basso la curiosità. Ieri, prima della partita di campionato all'Aquila, tra l'Aquila e Celano, ombrelli sequestrati allo stadio, effetto derby, tifosi fermati agli ingressi, nell'impianto senza barriere. E poi, domani al Munda dell'Aquila, i segreti della fibula di Pizzoli. Andiamo a vedere la prossima pagina. Siamo in provincia dell'Aquila, sempre ad Avezzano, e dunque nella Marsica. Elezioni ad Avezzano. I civici svelano a Natale il nome del candidato Silvagni. Cambio di rotta è un programma in dieci punti. Nel centrodestra, la Lega non cede sulla scelta di un suo uomo. E a Carsoli la folla, il lacrime per Federica. Gli amici hanno voluto dire addio con il lancio di palloncini bianchi alla 23enne. L'ultimo saluto alla 23enne, scomparsa nei giorni scorsi. Andiamo in basso. Roccaraso, il sogno di Aia, un'altra donazione. L'associazione consegna tre macchinari all'ospedale di Bergamo. Siamo alla pagina di Teramo e della provincia di Teramo sul centro. Ci spostiamo in questo caso a Montorio Alvomano. Ancora un incidente mortale nella nostra regione. Schianto muore mentre va dalla figlia. Frontale sulla strada Stata L'80, la vittima di 87 anni voleva partecipare alla festa sorpresa per il compleanno della donna. Ferito il nipote. Ancarano, macchina si ribalta, tre giovani feriti, uno è in gravi condizioni. E poi a Bisenti, anziano spiarito. Ricerche sospese, oggi vertice in prefettura per decidere se proseguire appello dei familiari. Andiamo a Nereto, l'omicidio di Micaela. Sotto esame i cellulari, accertamenti tecnici irripetibili sugli apparecchi di vittime e assassino per chiarire la dinamica. Siamo arrivati alle pagine dello sport. Allora possiamo andare a vedere insieme invece le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero oggi in edicola. Partiamo dalla pagina che riguarda Pescara e Provincia. Notte di violenza in Via Piave, 17enne pestato dal branco, è stato circondato e aggredito davanti alla fidanzatina. Rischi un occhio, la madre denuncia. So chi è stato. E poi ex cofa, tempi più lunghi per riflettere le associazioni, vietato sbagliare la scelta. Vedete questo, il titolo che riguarda il dibattito sull'ex cofa. E poi le cerimonie per l'Unità d'Italia per la festa del 4 novembre di oggi, Tricolore dei Parà, oggi manifestazione a Montesilvano. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre del messaggero, sorprende i ladri dentro casa, drammatica rapina ad Aragno, il racconto di Mario Colabianchi, noto rivenditore di legname, era con la famiglia. E poi all'Aquila, le anime sante boom di battesimi e fiori di arancio, nella chiesa che è stata riaperta lo scorso anno alla presenza anche del Presidente della Repubblica, Mattarella. Vediamo poi in basso un titolo che riguarda lo sport, il rugby in serie B, a rullo, paganica ed Avezzano. Proseguiamo la pagina proprio di Avezzano e sul Mona partiamo da Avezzano, tirabassi altri esami, ma è routine, il noto attore sta meglio dopo il malore che lo aveva colpito proprio quando si trovava in provincia dell'Aquila, ricoverato è stato operato all'ospedale di Avezzano. E poi Carsoli, lo stupro dopo la festa di Halloween, sospetti concentrati su un giovane. Vediamo poi in basso sul Mona, riapre oggi i battenti, l'asilo Nido Isola Felice. Felice e ha sempre a sul Mona, il campanile ricorda il terremoto del 1706. Siamo la pagina di Chieti e della provincia, sempre dal messaggero, grandi opere, siamo a Chieti, in questo caso di Primio a Roma, sblocca 11 milioni, si raddoppiano i posti al parcheggio del termine Sottovia Gran Sasso, niente più auto in piazza San Giustino che sarà ripavimentata e diventerà pedonale. A Basto concesso lo stoccaggio di acidi a Punta Penna, Ortona, Matteo Crisanti trionfa al Festival del Brodetto, infine Lanciano, vedete il titolo in basso, il PD più sicuro, il corso senza bici, il gruppo consigliare ribatte alle critiche di Tonia Polucci in merito alla totale pedonalizzazione della via in pieno centro nella città frentana. Siamo arrivati alla pagina di Teramo, sempre del messaggero, Gran Sasso, restyling del tunnel, timori per le polveri inquinanti, vedete il titolo di apertura di pagina 35, il progetto presentato da Strada dei Parchi al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a preoccupare la fresatura della galleria per rimuovere il calcestruzzo deteriorato, Giulianova, Ponte Ciclopedonale scatta l'allarme rosso e poi in basso Ancarano, schianto dopo la discoteca, ragazzo gravissimo, a Montori abbiamo visto anche dal centro, incidente frontale tra due auto, morta una donna di 87 anni. Siamo arrivati anche in questo caso allo sport, allora possiamo aprire la pagina sportiva come sempre molto ampia il lunedì, poi vedremo nel corso della seconda parte anche i servizi delle partite di ieri, di Serie C e di Serie D, ma iniziamo con i quotidiani sportivi nazionali, con le rispettive prime pagine, siamo alla Gazzetta dello Sport, altro che Champions, l'allarme rosso-nero, sesta sconfitta, mai così male il Milan da 78 anni, la Lazio sbanca San Siro nel finale, per i rossoneri la classifica è sicuramente preoccupante, Cagliari boom da spettacolo e va in orbita al quarto posto, la squadra di Marano dopo la vittoria di Bergamo, e poi basta bu, io vado via, insultato da Verona, Balotelli, giocatore del Brescia, calcia in curva, tanti con me, chi nega, non è un uomo. Vediamo il Corriere dello Sport, vedete in alto proprio il titolo che riguarda la vicenda di ieri, Balotelli si ribella, bersagliato dai tifosi del Verona, Mario Scaglia la palla in curva e fa il gesto di andarsene, gara sospesa, Juric, tecnico del Verona, dice nessun urlato, il giocatore sui social, non è un uomo vero, chi nega l'evidenza. E poi da padroni, parliamo della Lazio, che dopo 30 anni, vince a San Siro con il Milan, in campionato immobile fa 100, e 100 gol, e crisi Milan, davvero una crisi nera per la formazione del tecnico Pioli, vediamo anche un titolo che riguarda la Formula 1, la sesta di Lewis Hamilton, che è un passo dalla storia e da Schumacher, vediamo anche tutto sport, i numeri del Toro restano da incubo, il quotidiano torinese ovviamente analizza la crisi della squadra di Mazzari dopo il derby, perso con la Juventus, corre a Ciao Milan, anche la Lazio è quarta, e poi vedete, De Laite segreto, il gol di De Laite, e parliamo della Juventus, ha permesso ai bianconieri di vincere il derby proprio con i Granata, e allora possiamo fermarci per qualche istante, per quanto concerne questa prima parte di Mattino 6, tra poco, tra pochissimo, torneremo in studio, inizieremo a parlare di sport in chiave regionale, a vedere i primi servizi delle gare di ieri, partendo dalla vittoria del Teramo con il Bisceglie. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alle pagine dello sport del centro, partiamo dallo sport nazionale, da quello che è accaduto, è successo ieri in Serie A, con la vittoria della Lazio nel posticipo serale, Lazio con una marcia in più, il Milan si scioglie alla fine, dopo 30 anni immobile, Correa firmano il colpo, al Meazza contro il Diavolo. Pioli, noi siamo in crescita, detto il tecnico Rosso Nero, e Punge Leao, voglio di più. Vediamo anche l'altra pagina, Balotelli si ferma contro il razzismo, Iuric niente ululati per la gara Verona-Brescia, che è stata sospesa dal direttore di gara per 5 minuti. Vediamo anche le partite, le altre partite di Serie A, Atalanta-Cagliari 0-2 col Paccio dei Sardi in Terra Lombarda, e poi 2-2 tra Lecce e Sassuolo, con l'Udinese poi, che è andata a vincere per 3-1 a Genova con il nuovo allenatore Gotti, l'allenatore in seconda, in panchina, al posto del esonerato Tudor, e poi Fiorentina-Parma, 1-1, e questi risultati delle gare giocate ieri, poi c'erano stati gli anticipi del sabato, di cui abbiamo parlato anche in precedenza. Vediamo invece quello che si dice in casa Pescara, Pescara che vede la zona play-off, gol e punti, Galano, sulla via dei Bomber, sulle Orme di Mancuso e Lapadula, l'attaccante, Pugliese 6-reti, punta a battere il record personale, e pensa anche al trono dei capocannonieri, tra l'altro Galano, nella scorsa stagione a Foggia aveva segnato nell'intero campionato 3-reti, oggi dopo 11 giornate è già a quota 6. e il Pescara giocherà sabato prossimo alle 18 al Castellani di Empoli, proprio l'Empoli, ieri K.O. in casa del Benevento, Benevento in fuga solitaria con l'allungo dei campani sulle dirette inseguitrici, gol per il Benevento di Tuia e di Kragol. Vediamo anche le altre gare giocate ieri, con la vittoria del Pordenone sul Trapani per 3-1, pareggio senza reti tra Cittadella e Frosinone. Siamo arrivati alla pagina che riguarda il calcio di Serie C per il Teramo quarto successo di fila, crisi alle spalle, il poker di vittoria è servito, battuto il Bisceglie per 1-0 ma in modo più netto di quando non dica il risultato, la rete della vittoria è stata segnata da Ilari nel primo tempo, nella parte finale del primo tempo. Vediamo anche il messaggero come parla di questa vittoria del Teramo ma prima vediamo la prima pagina che riguarda invece il Pescara sia un Pescara giovane e bello la felicità di Sebastiani sentir parlare soltanto di salvezza mi fa venire l'Orticari ha detto il padrone Biancazzurro dopo la vittoria con il Pisa per 3-0 nella gara con i Toscari tra l'altro c'è stato l'esordio assoluto con la maglia Biancazzurra di Palmucci dalla curva al debutto per me giornata indimenticabile ed è ritornata la cooperativa del gol perché l'attacco del Delfino con 20 reti fa Faville nonostante l'assenza di Tuminello Galano 6 reti Macin 5 e nella gara col Pisa primo gol per lui da professionista per Borrelli dicevamo del Teramo il Teramo che fa poker playoff consolidati vittoria per 1-0 con il Bisceglie la rete che ha deciso la gara è stata realizzata dall'ergista Carlo Ilari mercoledì in campo a Viterbo per la Coppa Italia ci sarà sicuramente turnover da parte di Tedino che darà spazio a chi ha giocato meno in stagione Tedino e Ilari più sofferta di quello che sembrava hanno detto al novantunesimo torniamo al centro per vedere anche quali sono stati i risultati della giornata nel girone C di serie C che ha visto tra l'altro anche un rinvio di una gara Paganese-Catania causa maltempo e poi a sorpresa Bari-Vibonese 2-2 Casertana-Viterbese 2-2 Catanzaro-Avelino 3-1 Potenza-Regina 0-3 Calabresi sempre più in testa alla classifica Rende-Monopoli 1-2 Rieti Virtus-Francavilla 1-1 Sicula-Leonzio Cavese 3-1 Ternana-Picerno 2-1 E allora andiamo a vedere il servizio sulla vittoria del Teramo ieri al Bonolis servizio realizzato per noi Dania Cantagalli Il Teramo serve il poker contro il Bisceglie basta infatti un gol di Carlo Ilari al secondo centro stagionale per centrare il quarto successo consecutivo in campionato e pensare che non accadeva dalla stagione 2014-2015 indimenticabile tra gioie e dolori è un Teramo differente quello che va in scena al Bonolis contro una squadra affamata di punti i Biancorossi infatti impiegano mezz'ora per iniziare a carburare con il Bisceglie che offre di contro un discreto possesso ma non altrettanta qualità nell'ultimo passaggio Diallo al diciottesimo spara alto in area un assist di Manicone bravo a bruciare sul tempo Piacentini Il Diavolo alza il livello della gara nell'ultimo quarto d'ora Costa Ferreira ci prova dalla distanza con tiro che diventa involontariamente assist per Magnachi che non ha però un impatto felice con il pallone un minuto più tardi e Bombaggi a dare l'impressione del gol con palla che termina di poco a lato ancora 60 secondi dopo Arrigoni vede l'incrocio dei pali negargli la rete il gol è però nell'aria al trentasiesimo Bombaggi ispira Cristini che non trova la porta ma al trentasettesimo ci pensa Magnachi a fare l'uomo assist per l'inserimento vincente di Ilari il bilceglie del primo tempo è in un colpo di testa centrale di Ristov che Tomei para senza problemi ad inizio ripresa Pokeshi inserisce Bagua e Camporeale per passare al 4-3-3 i nerazzuri tengono il possesso con Tomei che al dodicesimo compie distinto un miracolo nel bloccare in qualche modo il colpo di testa ravvicinato di Piccini il teramo torna ad alzare la qualità delle giocate più tardi al ventesimo Mugo chiama in causa Casadei e poco dopo lo stesso Mugo non arriva di un soffio a deviare in porta un cross di Cancellotti per gli ospiti va referto un tentativo di Zibert dalla distanza con finale però tutto bianco-rosso al 35esimo a Bombaggi trova la testa di Ilari ma non il successivo gol al 43esimo Cianci da terra non infila nello specchio un assist di Costa Ferreira il teramo mette così in cascina altri tre punti in una gara iniziata nel ricordo dell'ex direttore generale dell'asile di Teramo Roberto Fagnano scomparso in settimana saranno valutate nelle prossime ore le condizioni di Viero out per una distorsione alla caviglia rimediata in allenamento mercoledì prossimo gara di Coppa Italia secondo turno contro la Viterbese in trasferta mentre domenica prossima si andrà di nuovo a Potenza per affrontare il Picerno e questo è il servizio sulla vittoria del Teramo apriamo il capitolo ampio come sempre relativo alla Serie D parliamo e partiamo dal derby l'unico di giornata ieri nel girone F pari e patta tra Pineto e Vastese al Mariani Pavone vedete la Vastese stoppa il Pineto Teramani ridotti in 10 Cercelluti rimedia alla rete di Dos Santos sempre più capo cannoniere del campionato 1 a 1 un pareggio che alla fine probabilmente non ha soddisfatto nessuno andiamo a vedere il servizio di Roberta Di Sante pari e patta tra Pineto e Vastese nel derby di giornata al Mariani Pavone termina 1 a 1 al gol di Dos Santos replica Ciarcelluti assenti Sissè e della Quercia per infortunio e D'Angelo per squalifica nel Pineto Rachini inserisce nel 4-3-3 Perini in difesa Camplone in mediana con Acquadro e Amadio mentre in avanti il terminale offensivo è Alessandro con Pippi che parte dalla panchina 3-5-2 per Marco Amelia che ritrova Bardini tra i pali ma oltre a Ravanelli e Palungo è costretto a rinunciare per infortunio a vittorio esposito in avanti c'è Alonzi in coppia con Dos Santos in avvio c'è equilibrio in campo prima occasione al sedicesimo Ciarcelluti apre per San Rizzo il pallone di ritorno quindi il tentativo di girata murato sul primo palo da Bardini risponde Lavastese al ventesimo Dos Santos se ne va sulla sinistra il cross basso per la corrente Alonzi che non ci arriva di un soffio pochi minuti e si concretizza la regola non scritta più famosa del calcio al ventiduesimo sugli sviluppi della punizione di acquadro Orlando spreca così e al ventisettesimo sul fronte opposto una cinica vastese passa Marianelli innesca Dos Santos che implacabile di testa piazza la girata vincente e l'ottavo sigillo stagionale per il bomber in vetta alla classifica marcatori la reazione del Pineto è immediata su azione d'angolo Pepe tenta la rovesciata poi Perini non riesce a sorprendere un attanto Bardini ultima occasione dei primi 45 minuti per Alonzi che dal limite fa partire il diagonale di poco al lato nella ripresa il Pineto torna in campo determinato a recuperare lo svantaggio e dopo il primo tentativo murato a Ciarcelluti trova il gol del pari al quinto un onnipresente Stefano Amadio serve ancora il numero 10 che lasciato libero di calciare al limite dell'area inzacca di potenza sotto l'incrocio la rete dell'1-1 subito dopo il pari prova a cambiare qualcosa Marco Amelia sostituzione tra Vastesi Doc il 2002 Ruzzi prende il posto del 2003 Cavuoti ma è il Pineto ad avere l'occasione al tredicesimo con la bella girata di Alessandro in area sulla quale si fa trovare ancora pronto Bardini i locali tengono il pallino del gioco la Vastese prova a ripartire come al ventiduesimo con un lancio dell'ex Francesco Esposito che termina a lato e si affida alla velocità di Stivaletta entrato a rilevare Alonzi come al ventottesimo quando su azione d'attacco della Vastese Sciva esce fuori dall'area respingendo con le mani la sfera e rimediando così il tartellino rosso Sarrizu viene sacrificato per far posto a Remo Amadio con Stivaletta che si incarica della battuta del calcio di punizione dal limite che termina sulla barriera tra le proteste vastesi che reclamano un tocco col braccio di massa non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire ridisegna quindi la squadra Rachini tirando fuori proprio l'esterno appena entrato per far posto a Pierpaoli in un centrocampo di maggior contenimento dall'altra parte Amelia si gioca la carta cardinale per provare a vincere la partita ma nonostante l'uomo in meno il Pineto non rischierà più nulla anzi è proprio la squadra di Rachini a chiudere la partita in avanti dopo 5 minuti di recupero termina così 1 a 1 un pareggio che però non accontenta nessuno vediamo anche il titolo del centro sul derby di Erido Santos illude Lavastese Pineto pari tra i rimpianti Rachini meritavamo la vittoria detto al 91esimo il tecnico Pinetese Amelia è un buon punto vediamo e poi la prossima partita che ci porta ad Avezzano il prossimo titolo che ci porta ad Avezzano per meglio dire Buio Avezzano altro tonfo Paris sarà rivoluzione Aldemar si vince il Matelica dell'ex Colavitto per 2 a 0 Biancoverdi al terzo ultimo posto e contestati il presidente chiedo pazienza ai tifosi vediamo anche il messaggero in questo consueto ping pong tra le pagine dei due quotidiani regionali Avezzano vedete De Bacl sconfitto in casa finisce 2 a 0 per il Matelica allo stadio dei Marsi allora andiamo a vedere il servizio su questa vittoria dei marchigiani in casa della formazione Marsicana in servizio di Luca Polsoni L'Avezzano per rialzarsi dai due cappone nelle ultime tre uscite il Matelica per proseguire la rincorsa notaresco e recanatese in vetta alla classifica al De Marsi i biancoverdi ritrovano Gianluca Colavitto artefice della miracolosa salvezza nella scorsa stagione a caccia del primo successo sulla panchina dei Marsicani Liguori si affida al 4-2-3-1 e rispolverà Franchi dal primo minuto insieme a Diop Quatrana sulla tre quarti a supporto di Gaeta 4-3-3 per il Matelica con Leonetti per l'offensivo assistito da Valenti e Moretti sugli esterni in avvio è L'Avezzano a farsi preferire al terzo azione ben manovrata con Gaeta che fa da bo per Franchi che scarabocchia e spedisce lontano dallo specchio 60 secondi e rispondono i marchigiani discesa di De Luca che appoggia per Leonetti conclusione debole e presa plastica di Alonzi al nono tornano in avanti biancoverdi ancora con Franchi che raccoglie un traversone dalla sinistra e gira di poco alto sopra la traversa la pioggia rende pesante il terreno di gioco e i ritmi calano inevitabilmente per un altro sussulto si deve attendere fino al 29esimo quando Leonetti raccoglie la torre di Moretti e trova la deviazione provvidenziale della difesa biancoverde tre giri di lancetta e prova ad accendersi Gaeta che si accentra e arma il destro tiro centrale facile preda di Urbietis nel finale di tempo Colavitto perde Valenti per infortunio con Leonetti a defilarsi sulla sinistra non succede più nulla e il primo tempo si chiude tra i fischi del pubblico di casa in avvio di ripresa l'Avezzano prova a scuotersi dopo appena 43 secondi piazzato di Franchi per la testa di Brunetti anticipo di De Santis che evita il peggio ai suoi all'undicesimo però i marzicani capitolano De Santis fa partire un traversone che taglia il cuore dell'aria Moretti è lesto ad inserirsi ed anticipare Alonzi per l'1-0 secondo gol in campionato per l'ex notaresco e Matelica avanti Liguori corre ai ripari inserendo De Costanzo per un deludente Franchi ma l'Avezzano fatica a costruire a rendersi pericolosi sono ancora i marchigiani con Bordo che cerca l'Euro goal di giornata sta affilata fuori dallo specchio il Matelica lascia l'iniziativa all'Avezzano ma i biancoverdi stentano ad arrivare dalle parti di Urbietis Colavitto fa ricorso alle forze fresche e manda in campo Massetti per croce l'unico tentativo dei padroni di casa arriva al 38esimo quando Gaeta ha defilato mette in mezzo tra i mugugni e i fischi del De Marzi l'Avezzano abbozza un timido forcing che non fa altro che mettere in luce le lacune tecniche e mentali di una squadra ancora senza identità e al primo dei 5 minuti di recupero arriva il raddoppio del Matelica il neentrato Massetti raccoglie la torre di Tomassini collo pieno e conclusione vincente che apre la crisi dell'Avezzano Biancoverdi ha la terza sconfitta in 4 partite e sempre più giù in classifica Matelica ha il terzo successo consecutivo che vale il terzo posto a meno 9 da Recanatese il mercato di dicembre che rivoluzionerà la rosa in casa Avezzano a montare è la protesta dei tifosi e noi vediamo quello che è accaduto al stadio Selvapiana di Campobasso dove è arrivata la sconfitta del Giulianova vedete il titolo del messaggero a pagina 41 Real Giulianova nulla da fare a Campobasso grosso passo indietro per la formazione del tecnico del grosso vediamo anche il quotidiano il centro in questo caso sempre per parlare del K.O. in Molise dei giallorossi Giulianova distratto alla festa del Campobasso un doppio cogliati piega bifurgo dubbi sul rigore Giglio noi riusciamo ad avere continuità quella continuità che manca davvero alla squadra del presidente Bartolini allora spazio alle immagini nel servizio della gara giocata tra Campobasso e Giulianova con la vittoria dei padroni di casa per 2 a 0 un ottimo Campobasso si sbarazza 2 a 0 di un ostico Giulianova decide una doppietta del Redivivo Cogliati che in due settimane ha mutato il volto della squadra Cudini estromette Alessandro per scelta tecnica e vira su un 4-3-2-1 in cui brillerà anche la stella di Candelori si gioca di fronte a poco meno di mille spettatori gara preceduta dalle spettacolari celebrazioni per il centenario dalla fondazione della società il Campobasso giocherà appunto con la maglia del centenario che dopo questa partita verrà ritirata i piccoli della scuola calcio rosso blu sono in cerchio intorno ad un megacento che raffigura il lupo oltre ai festeggiamenti anche un minuto di silenzio per ricordare Roberto Fagnano manager campobassano della sanità abruzzese deceduto improvvisamente in settimana al quinto punizione di Pizzutelli la barriera Giuliese la devia in calcio d'angolo su Selvapiana avviene giù una pioggia incredibile all'undicesimo da Candelori per Cogliati che calcia alto ma si prende gli applausi del pubblico presente al diciassettesimo punizione di Pizzutelli molto tagliata si intromette Sbardella che calcia alto ma era anche in fuorigioco debutto dal primo minuto per Sbardella al fianco di Menna passano 30 secondi con Candelori che crossa di Amutene intercetta in qualche modo per i campobassani è irregolare ma l'arbitro fa capire a gesti di giocare il direttore di gara signor De Vincentis di Taranto break Giulianova al diciottesimo quando Suriano è bravo a cambiare piede decide di beffare Natale non ci riesce questione di qualche metro le coreografie non si stoppano nel corso della gara i tifosi rosso-blu omaggiano i 27 angeli di San Giuliano di Puglia a 17 anni dal tragico terremoto del Molise il campobasso abbatte il muro abruzzese al 27esimo al termine di un'azione degna di nota palla a terra da Candelori a Cogliati lo spazio è troppo ghiotto per il diagonale vincente della punta di casa due gol in due partite per il neot accante rosso-blu la partita alza notevolmente i toni al 31esimo Lupi vicino al bis dal fondo lo stesso Cogliati a mettere al centro per Candelori che corregge ma trova il muro di Gueie che protegge la porta ospite ancora rosso-blu offensivi al 35esimo Cogliati mette in mezzo allontana sempre Gueie l'azione prosegue con Brenci che prende la mira e conclude ancora Gueie a frapporsi al tiro del giocatore di casa il campobasso costruisce tanto al 43esimo gran pallone di Van Zan da sinistra testa di Tengorang pallone fuori di un soffio il Giulianova non sta solo a guardare o a subire passa un minuto cross da destra di Barlafante interviene a due metri dalla linea Fabriani a depositare in corner i rosso-blu mancano della giusta precisione altrimenti l'attivo sarebbe stato più rotondo 45esimo gran contropiede orchestrato da Brenci palla offerta Pizzutelli grande sterzata e conclusione respinta da Bifulco arriva Tengorang che va al tiro salva sulla linea Ferrini riprende ancora Candelori il cui tiro smorzato è intercettato da Bifulco incredibile tre occasioni in pochi secondi ma non sfruttate dai padroni di casa nella ripresa nessun cambio da parte dei due tecnici giallorossi in avanti al quarto con il destro di Suriano al lato di qualche metro negli ospiti dentro l'ex di Paolo al posto di Fazzini a partire dal settimo ospiti pericolosi al tredicesimo quando Ram scocca un tiro che diventa facile assist per Fioretti il quale viene chiuso da Menna in angolo i rosso-blu tirano un sospiro di sollievo il campo basso cala un po' a livello fisico il Giulianova si gioca il tutto per tutto con le quattro punte in campo dal ventiduesimo dentro anche l'ex Vitelli in luogo di Ferrini Cudini non sta a guardare inserisce Giampaolo al posto di Pizzutelli dal venticinquesimo rosso-blu adesso con tre punte sul terreno di gioco i lupi si tolgono qualsiasi brutto pensiero dalla mezz'ora quando Brenci effettua una scivolata che favorisce il recupero di Cogliati messo a terra da Guei è uno dei migliori dei suoi per il signor De Vincentis e calcio di rigore dal dischetto la trasformazione di Cogliati è perfetta la gioia per il raddoppio è condivisa con i tifosi della Nord Scorrano che sono lì a pochi metri la vittoria sembra essere ipotecata Cudini ne approfitta per far entrare Zammarchi al posto di Tengorang dal 38esimo applausi scroscianti per Cogliati al minuto della sua uscita dal campo entra poi Giambè al suo posto in pieno recupero siamo al 92esimo si prende la scena anche il portiere Natale davvero abile nel neutralizzare un tiro ravvicinato di Fioretti dall'altra parte un minuto dopo dal fondo pennella bontà ma calcia fuori Giambè finisce con la festa fra tifosi e squadra e con una ritrovata serenità in seno alla squadra rosso-blu quel fattore di cui si sentiva tanto il bisogno fino a due settimane fa 9 vittorie di fila un record parliamo del notaresco che dopo il K.O. nella prima giornata con il vasto Girardi ha conosciuto solo vittorie ieri al 93esimo il gol di Gaetani ha permesso alla squadra di Vagnoni di battere la formazione molisana dell'Olimpia agnonese e di dunque di mantenere il primato in classifica a braccetto con la squadra l'altra squadra che sta dominando la scena ovvero la Re Canatese ma noi ci concentriamo sul successo della squadra abruzzese nel servizio di Jacopo Forcella soffre lotta sembra quasi al tappeto ma quando pare troppo tardi suona la nona sinfonia dell'anno il notaresco ha le stesse vite delle sue vittorie la Re Canatese resta a braccetto a quota 27 e il sogno dei rosso-blu può continuare in attesa del Matelica del prossimo turno padroni di casa senza Mele Cancelli e Salvatori il 4-3-1-2 vede Blando giocare da mezzale e Cramellà alle spalle di Sansovini e Romano dietro conferma per Gallo nell'Agnonese sono Minacore e Acosta i terminali offensivi con Cone vera spina del fianco sulla destra per l'11 di Vagnoni il notaresco vive di fiammate già al quarto la discesa costo-cost di Cramellà spacca la retroguardia dell'Agnonese servizio verticale per il taglio di Romano sul quale tempestivo e Blando calamita una corta respinta alto molisana ma angola male il sinistro da buona posizione poi una fase di studio prima dell'affondo che fa davvero quello sì male al 24esimo il traversone di Di Stefano è una pennellata Romano prende l'ascensore griffa il vantaggio rosso-blu quarto centro stagionale per l'attaccante ma soprattutto 1-0 per il notaresco vantaggio meritato per quanto visto fino a quel momento ma che rischia di essere subito vanificato dalla testa di Minacori di un soffio alta dopo altri due giri di lancette l'occasione di mettere un'ipoteca sul successo il notaresco se la ritrova al 40esimo corner di Blando Gallo si libera della marcatura e può sparare di testa da ottima posizione ma angola troppo e manca il colpo che sarebbe stato nel KO si fa male Marcelli nel notaresco Vagnoni inserisce Leonzi con Blando che si piazza davanti alla difesa ma è in chiusura di tempo e Cone a mancare clamorosamente la rete del pari servito da Diachite dopo una lunga fuga sull'out destro nell'intervallo la partita però gira la doccia gelata dopo nemmeno 60 secondi sempre grazie a Cone totalmente dimenticato in area piccola sugli sviluppi del corner di Barbato e rifinito da Nicolao un minuto e Minacori cerca addirittura il sorpasso con una conclusione alta e allora Vagnoni corre ripari fuori Cramellà dentro Gaetani si rivelerà una mossa decisiva col notaresco che nel frattempo non approfitta di un piazzato dal limite calciato da Sansovini la squadra di Vagnoni soffre tantissimo le incursioni sulla sinistra di Nicolao riesce a ripartire pochissimo e di conseguenza sono gli altomolisani ad avere il completo pallino del gioco e quando tutto sembra portare le due scuole a dividersi la posta all'ultimo assalto quasi il piazzato di Frulla pesca la sponda aerea di Gallo Gaetani controlla e nella mischia estrae dal cilindro una rovesciata da antologia pallone in fondo al sacco tre punti che tornano sulla sponda abruzzese la gioia è incontenibile di un Savini che adesso sogna ad occhi aperti la nonna sinfonia in realtà i punti diventano 27 il notaresco adesso può considerarsi a tutti gli effetti una delle grandi di questo campionato complimenti alla squadra di Vagnoni davvero una striscia di vittorie memorabile andiamo al polisportivo di Civitanova Marche nel prossimo servizio con il Chieti che in vantaggio per 2 a 0 sulla San Giustese si fa raggiungere e recuperare nel finale vediamo il servizio realizzato per noi da Stefano Recanati un Chieti dei due volti deve accontentarsi di un punto al comunale di Civitanova contro la San Giustese che qui non ha mai vinto e che non aveva approcciato nel migliore dei modi la gara la San Giustese alla ricerca di continuità dopo la vittoria sul Monte Giorgio di 7 giorni fa perde poco prima del via Mengoni per uno stato influenzale oltre a Perfetti e Pezzotti allora Senigalliesi schiera la coppia Scogna-Miglio-Patrizzi in difesa il figlio d'arte Alessio Palladini a centrocampo insieme a Bambozzi e Presmans in avanti Mingiano assistito da Boschetti e Romano i Neroverdi che non vincono da 6 giornate tre pareggie e tre sconfitte devono fare a meno di Ricci e Vittiglio Grandoni allora conferma il 4-4-2 con i rientranti Veneri e Fantauzzi al centro della difesa a centrocampo la qualità e l'esperienza di Milizia Mazzogli e Bacicalupo in avanti Bruni e Traini dirige Dorillo di Torino parte forte il Chieti che dopo 8 giri di lancette sblocca subito l'incontro Veneri da calcio d'angolo impegna Chiodini si accende una mischia in aria dove Traini è il più lesso ad arrivare sulla palla e a realizzare il gol dello 0-1 con l'attaccante Nero Verde che ritrova il gol dopo 9 giornate la Sangiustese accusato il colpo si fa vedere in avanti al ventesimo quando Mingiano conclude verso la porta ma il tiro viene ribattuto da Fantauzzi passano 5 minuti e ancora Sangiustese con Palladini che prova in acrobazia ma la conclusione è troppo centrale per impensierire l'estremo Nero Verde ma il Chieti di questo primo tempo è cinico e ancora da calcio d'angolo arriva il raddoppio dei ragazzi di Grandoni di nuovo con Traini ancora una volta il più lesto a raccogliere in area di rigore e battere con il mancino Chiodini che comunque era arrivato sulla palla in avvio di ripresa Seni Gagliesi ridisegna l'assetto tattico passando ad un più offensivo 4-2-4 Grandoni risponde mandando in campo Di Marco per Traini lasciando in avanti il solo Bruni la Sangiustese cerca di riaprire la gara in qualche modo ma le offensive del rosso-blu risultano timide per impensierire Chiodini come al ventinovesimo quando da fuori ci prova Palladini ma ha telefonato per creare problemi ai neroverdi ospiti al trentesimo il primo brivido della ripresa per la truppa di Grandoni quando Pomiro in girata dal limite mira l'incrocio dei pali dove vola Camerlengo a sventare la minaccia e l'avvisale al gol che arriva un minuto più tardi quando Dorilo di Torino ravvisa gli estremi per il calcio di rigore per un fallo di Patrizzi su Venneri con quest'ultimo che viene ammonito dell'esecuzione se ne incarica Pomiro che batte centralmente Camerlengo la Sangiustese ci crede e continua a premere sull'acceleratore ma è ancora da palla ferma che i rosso-blu vanno in gol fallo di Marzola al limite dell'area di rigore punizione affidata a Pomiro che con il mancino trova una traiettoria bellissima all'ingrocio dei pali alla sinistra di Camerlengo per il pareggio della squadra di casa questa l'ultima emozione con il Chieti che per la settima gara consecutiva non riesce a portare a casa i tre punti mentre la Sangiustese da continuità di risultati alla vittoria contro il Monte Giorgio nel prossimo turno il Chieti sul neutro di Città Sant'Angelo affronterà il Fiuggi la Sangiustese se la vedrà con il Giulianova e vediamo rapidamente quello che è successo in eccellenza con il pareggio tra la Delfino Flacco Porto e il Lanciano per 2 a 2 poi Nereto Pontevomano 0 a 1 Angizia Luco Acqua e Sapone 4 a 2 Paterno Capestrello 0 a 2 Penne Castelnuovo 0 a 1 con il Castelnuovo in vetta più 3 sulle inseguitrici Nero Stellati Bagicalupo Vasto Marina 4 a 0 Renato Curi Angolana San Buceto 0 a 3 Torrese Albadriatica 3 a 0 Virtus Cupello Spoltore 0 a 2 la promozione il girone A L'Aquila Celano 3 a 2 Mutignano Real Atria 1 a 0 Morrodoro Tornimparte 1 a 1 Fontanella Rosetana 4 a 1 Amiternina Mosciano 0 a 0 Pucetta Miano 2 a 1 Piano della Lente San Gregorio 1 a 1 Pizzoli New Club Villa Mattoni 0 a 3 il girone B con il Casalbordino che cala il poker su Miglianico 4 a 0 Elicese Virtus Ortona 1 a 1 Scafa Passo Cordone Ovidiana Sulmona 1 a 0 Valdisangro Silvi 2 a 1 Fate Rangelini San Salvo 1 a 2 Raiano Bucchianico 2 a 1 Ortona Fossa Cesia 5 a 2 Casolana San Giovanni Tiatino 0 a 1 Villa 2015 Athletic Lanciano 1 a 0 Siamo rapidamente al basket prima di salutarci Roseto Albuio Mantua non perdona Sharks battuti 82 a 62 nel torneo di Serie 2 maschile da Mantua a domicilio d'Arcangeli inadeguati dall'inizio alla fine e poi il basket di Serie B con il Chieti che passa a Monte Granaro per 93 a 91 Teramo cade a Senigallia 87 a 75 Giulianova passa a Civitanova Marche per 69 a 58 la Serie C Gold con Vasto che batte Chieti 83 a 59 nella Serie C Silver Pescara batte Torre Spessa 93 a 67 Silvi Teramo a Spicchi 60 a 80 Mosciano Termoli 88 a 73 Antoniana nuovo basket Aquilano 77 a 66 Farnese Amatori Pescara 81 a 72 chiudiamo con la palla a volo e con la vittoria della formazione della Sieco Ortona prima in classifica dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno con Cantù per 3 a 1 è davvero tutto per l'appuntamento di oggi con Mattino 6 appuntamento che si rinnoverà domani come sempre alle 8 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per la cortese attenzione vi ricordo i prossimi appuntamenti informativi della nostra rete in particolare la prima edizione del TG6 alle 14 questa sera per lo sport come sempre come ogni lunedì in diretta alle 21 dei nostri studi replay condotto da Enrico Rocchi buona giornata grazie a tutti